ciao ciao amici anche oggi siamo qui insieme per andare a recensire una figure vecchia del 2002 una collaborazione tra asbro e disney e praticamente andiamo a recensire questo set qua che il set a rocking elvis di lillo e stitch è bellissimo veramente fatto bene ce l'è vestita da hawaiiana che balla e stitch vestito da elvis con la chitarra quindi andiamolo unboxare e vi faccio vedere esattamente dal vicino com'è fatto veramente bene questo set all'interno troviamo allora il solito librettino di presentazione qua disney veramente fatto benino con tutti i set del cartone animato che a suo tempo qua mi pare 2002 c'erano in vendita però quelli più carini secondo me era proprio questo in assoluto compreso io e poi c'era questo qua con secchiella al mare e stitch sul che smangiucchia sulla sdraio poi se non ricordo male di qua dietro carino c'era anche questo sempre loro che ballano sono i tre e i tempi più carini io avevo optato per prendere questo di elvis che era quello che mi piaceva di più in assoluto allora andiamo a vedere cosa c'è all'interno all'interno troviamo la chitarra con le corde vedete la chitarra con le corde nulla di che poi dopo troviamo la macchina fotografica di lillo di lillo so se si dice lillo o lillo vedete la macchina fotografica andiamo lillo vestita verrà che bellina come è fatta veramente bene questa qua adesso qua c'è ancora il fermaglio dei capelli perché nuova non glielo levo col vestitino fate cos'è carina veramente carina erati piedini o le ciabattine questo set qua mi piace carino veramente loro fatti veramente bene guardate le guancette e si sta parlando comunque sia di figure uscite nel 2002 quindi un sacco di anni fatte nonostante tutto fatte bene andiamo a vedere stitch qua col vestito alla elvis dopo ve lo farò vedere girare con la chitarra in mano divertentissimo e qua gli andiamo vedete ci sono anche i capelli che hanno il simbolo vedete questo ciuffetto qua si va a incastrare sotto per farle modalità vedete elvis fatto veramente bene vedete qua c'è il vestitino qua c'è il codino cavolo incastrato non riesco a farlo uscire bene non tentiamo lo roviniamo vediamo di girare gli mettiamo la macchina fotografica lillo e e la chitarra asticci amici guardate che carino questo set datato ormai 20 anni si parla quasi 20 anni nel 2002 ripeto era una collaborazione se non sbaglio tra asbro e disney e secondo me è veramente carino non se li riusciamo a mettere testa un po verso il basso a nillo e mentre qua vediamo che sta cantando le sue canzoni di reportario in modalità elvis stitch un saluto dal carletto da lillo da stitch e mi raccomando like al video se vi è piaciuto ma soprattutto iscrivetevi al canale ciao